Padre Franco, ci prepariamo a partecipare alla Messa in onore di Maria Santissima di Siponto. Un anno particolare questo? Una festa patronale, questa del 2020? Una festa povera o una festa essenziale? Beh, direi che i due aggettivi che hai utilizzato per indicare la festa di quest'anno siano corretti e siano particolarmente evangelici. Probabilmente eravamo abituati a feste, tra virgolette, ricche e fatte di grandi iniziative, di tanti particolari e di abbondanza di elementi. Ecco, quest'anno, a motivo della situazione pandemica che ha colpito noi e il mondo intero, siamo stati in qualche modo costretti a diminuire, a diminuire tanti aspetti che facevano parte delle nostre tradizioni e dei nostri modi di agire e di vivere la festa, rendendola in qualche modo, ecco, più povera e più essenziale. Ma povertà ed essenzialità sono due aspetti del Vangelo. Ecco, il Vangelo è rivolto ai poveri e per i poveri. Il Vangelo dice la parola essenziale, unica, l'unica necessaria per la salvezza, che è la presenza misericordiosa e redentrice di Dio in Cristo in mezzo a noi. Ecco, se la festa della Madonna di Siponto di quest'anno ci aiuta a sottolineare maggiormente quello che è la povertà e l'essenzialità, fondamentalmente ci porta alla radice del Vangelo, a ciò che è il Vangelo in sé. È detto per noi che siamo poveri comunque e ci dice l'unica cosa necessaria, ecco, la presenza del Signore. Ecco, Maria dice a tutti e dice a noi fate quello che egli vi dirà, questa è l'unica frase essenziale, in bocca a Maria per noi ed è ciò che veramente conta. Se viviamo questo sarà una festa, forse povera se la paragoniamo alle abitudini che avevamo, con meno elementi, ma alla fine è essenziale. E quindi ci dice veramente la radice, ecco, della festa evangelica. Non perderemo niente, andremo alla radice di essa. Sono proprio occasioni come queste, poi, a portare la Chiesa a ripensare anche alla figura di Maria. Ecco, sono i momenti, come ci ripete continuamente in questi mesi Papa Francesco, di crisi, ma la crisi viene per aiutarci a cambiare. Ecco, possiamo cambiare in meglio, possiamo cambiare anche in peggio. Ecco, che la Madonna ci aiuti al cambio in meglio. Ecco, il cambio in meglio sarebbe già riconoscere questi due elementi fondamentali. Quello della povertà evangelica, del Vangelo ai poveri e per i poveri e di poveri, e quello dell'essenzialità. Ciò che conta veramente nella vita e nel mondo, la presenza di Cristo Signore, il suo Vangelo e la sua parola. Un messaggio per chi ci segue da casa. È un messaggio per chi ci segue da casa che, se non è riuscito o non riuscirà a partecipare di presenza, ecco, alle varie funzioni, anche perché i numeri sono ridotti e contingentati, apra maggiormente il suo cuore, crei con il cuore quel desiderio di presenza e di partecipazione che quando sarà possibile renderà vivo. Ma la partecipazione è vera se è mossa da un desiderio autentico e non semplicemente da abitudine o tradizione. Quindi dico a quelli che non possono partecipare, che stanno a casa, che elaborino e rendano più vivace il desiderio che alberga nel profondo del cuore, che è il desiderio dell'incontro con Dio attraverso Maria. Grazie. Prego.